e signori capitolo 7 adesso entriamo nel vivo della storia adesso andiamo veramente a a percepire la rottura dell'equilibrio che c'è stata dopo questo blackout poiché il nostro nemico ci sta inseguendo ok bene così bene che abbiano messo l'indicatore come in assassin's creed bene o in far cry in altri giochi vabbè giù bene e in questo capitolo c'è da fare parecchia attenzione prima che mi vedano ok di qua dove sei sono qui dentro via di qua diceva sally seguire i riflettori certo su merda se riescono a svegnarsela per arrampicarmi per vedere meglio li troveremo e li riempiremo di buchi ma sappiamo cosa fare resta concentrato vieni qua cos'hai trovato zitto a terra bene così madonna ragazzi come è cambiato sto gioco sono in marcia devo salire più in alto non è che mi potete dare un'arma tipo perché non ti arrampichi ah dimmi che quello è sally che ci è venuto a prendere potevo salire di là che coglione no tieni fuori ora ok trovato niente lì no niente da segnalare sul tetto è la sala da bella e il vialetto è di frotte vediamo se magari passando da qua si riesce a far qualcosa odio forse sì ok non è successo niente nessuno mi ha visto in faccia per ora calma uscirò di qui passeggiando c'è ancora la tessera oh aia tu non dovresti essere qui non sono il solo facciamo così io non dico niente e neanche tu hai una cosa che mi appartiene e adesso me la darai non è il cazzo beh l'offerta mi lusinga ma sono occupato ora se non ti spiace vai non sono in vena di giochetti dammi il crucifisso non ce l'ha signorina toglie le scarpe se non c'enti l'uomo sei fortunata ok ho capito ma ricorda non vorrei farlo ma devo farlo devo farlo troppo scontato cerco di darti una possibilità ci hai provato ci sono andato piano omaggio mio merda oh cazzo ora dammi il manufatto non ti appartiene già sapevi che qui tutti gli oggetti sono rubati dovrebbero stare in un museo inizio a perdere la pazienza oddio ok senti sono ancora jet lag ok oh cazzo brutta strong strong vuoi continuare a fare il furbo vuoi ci fare cacciare non c'è una chine pratica insisti con l'ironia è proprio facendo il furbo che sono arrivato fin qui perché smettere minchia karate taekwondo judo nella tasca dietro dove diavolo è oh non l'avrei detto ok grappati lì bravo beh almeno ci siamo tolti dai coglioni il che non è male ok sono alla macchina dove diavolo siete ha avuto un incontro spiacevole qui c'è il caos cercano di tenere la situazione sotto controllo ma sono tutti impazziti senza fretta ma muoviti cazzo Nathan dove sei? ottima domanda fa troppo morire i sali della sala da ballo cerca un cartello rotonda sulla strada bello rotonda ok la buona notizia è che ho una pistola a dopo e la cattiva qual è? l'ho sentito lo salto forse c'è un unico modo per saltare non mi dire che è questo esatto era l'ultima delle opzioni ma si è rivelata essere l'unica buono merda grande Sam minchia che lancio preciso testa testa stai bene? si non mi posso lamentare non so come raggiungerti da qui tu riesci a scendere? si credo di si devo ci vediamo al dialetto mi segui per la sala da ballo ok ci vediamo lì giù ok munizioni Victor sono bloccato qualche idea? la via più veloce è la sala da ballo la sala da ballo non è isolata ora che sanno che siete qui l'hanno scomperata sarà da ballo sia ok Nathan ricevuto ok dove andiamo? si salto? ok ho saltato bene qua vieni qua zitto se parfe ma è silenziata no ma vabbè che ci si può fare niente zitto lì la discrezione prima di tutto trofeo guadagnato bene così vabbè raga dopo tutto questo assassin's creed lo stealth eh lo stealth lo stealth sono due aspetta buono lì e fuori anche te che poi lo stealth non lo so usare ma mi garba un casino è cruel punto dentro no perché in due dimmi che non si ferma ok oh buono uno può venire qua ma che ok eh zitto no boni lì ok musica finita mi piace mi piace però ora la nostra rincorso non è mica finita vabbè devo dire che è anche abbastanza easy per ora poi vedrete che cazzo in culo che volano ok devo usare la fune vero fermati e vieni qui cazzo forza forza perlustriamo ok ok fuori anche te fuori anche te oh combat system è fortunosamente cambiato tutto bastardo bastardo zitto ah ti vengo a prendere vedrai su ok oh grazie x questo è un classico di uncharted oh preciso cazzo proprio dove non dovevamo atterrare cioè dove dovevamo ma non dovevamo adesso inizia la guerra ok cazzo eh però si potrebbe essere più precisi ok l'importante è non avere nessuno al fianco buono oh cazzo vabbè le colonne non le potete buttare giù ok in extremis ma l'ho preso l'ho visto sai vieni qua due colpi oh buono 15 colpi meglio di un dito fammi scappa subito che arma di merda chi è che spara loro detto che le granate le vorrei anche io potessi troppo sensibile sta mira mi cambia al lato ah ottima mira 686 colpi finiti vero no ovvio che no da là codo via oh cazzo ti seguo sali non resisteremo per molto via resisti ragazzo ci sono bello ok regola numero uno non fare le cose in impulsività vieni qua è risorto è morto adesso ok lo so dopo tutti questi anni di bestemmie sti mesi sti mesi di bestemmie un secondo un secondo un secondo buono per fortuna fanculo ok tanto te hai un bel problema e te ne sei andato sono nella merda completamente bello quando il gioco ti costringe a tornare indietro per forza perché ti sovraccarica di granate che bello praticamente l'unico ostacolo è l'ullà lassù ok l'ullà lassù si fa fuori manco ci arriva è uno spreco di colpi e basta aspetta chi è mica finita oh godo via via vai sali bello con la targa italiana oh buono eh buono buonissimo questo equivale all'anello equivale al pugnale tutte quelle cose che abbiamo incontrato nei capitoli precedenti spero di non finire all'inferno oh merda che c'è è vuota cosa dai il solito coglione è tuo fratello ottimo teschi e ossa incrociate promette bene è lo stema di every e questo cos'è odie mecumeris in paradiso oggi starai con me in paradiso sono le parole che Gesù disse a santisma sulla croce esatto cosa pensi di quei numeri che significano sarà un codice o un telefono andiamo sono date eh guarda 1659 è l'anno di nascita di every 1699 indovino in quello è morto beh secondo molti sì ma vuol dire che c'è la data di nascita di morte e il paradiso quindi bisogna cercare la tomba di every nella cattedrale di santisma un attimo rave non sta setacciando quella zona da una vita sì la cattedrale vedi questi simboli sì si trovano sulle antiche lapidi scozzesi ok ora guarda qui la pianta della zona è piuttosto insolita qui c'è la cattedrale ma il cimitero si trova qua giù rave sta cercando nel posto sbagliato esatto ragazzi si va in scozia ehi ehi in scozia vi rendete conto che rave aspetta solo voi sì ma ci penseremo una volta lì quel pazzo farà i salti di gioia quando vi vedrà arrivare senza contare che Anadine è il suo esercito dalla sua sì ma lui non ha questa abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano pensavo lo facessero aveva detto anche i lanciati dei precedenti e poi è andato tutto in fumo sono collegate ci serve il tesoro per salvare Sam ed Elena è d'accordo su tutto merda ragazzo non è così semplice aspetta dopo quello che avete passato insieme questa volta non capirebbe tu la sottovaluti ragazzo non posso correre questo rischio Nathan ha ragione le cose sono cambiate c'è di mezzo Rafe e posso cavarmela anche da solo davvero ok bene grazie per i consigli a tutti e due scusate ehi sono io ciao no c'è poco segnale c'è qualcosa che non va amico senti io capisco non sia stato facile tutti questi anni lontano e mi spiace per quel che ti è successo ma non è colpa sua questo non l'ho mai detto gli c'è voluto molto tempo per uscire dal giro qualcuno l'ha costretto l'ha scelto lui ok è nato per questo lavoro lo credi davvero che sia sincero quando ti parlo di me tu 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 qualcuno dovrà pur coprirgli le spalle sì ci vediamo tra qualche settimana sì certo ok ti amo anch'io ciao le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto il che è la verità ok allora che ne pensi a Sam serve il nostro aiuto beh ho sentito che il clima è particolarmente mito in Scozia in questa stagione allora partiremo per la Scozia beh Rafe non bada a spese vedo cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi Sully sì senti noi qui siamo pronti ok ragazzo buona caccia sei ancora in tempo per venire no se non c'è un ascensore credo rinuncerò d'accordo ci vediamo dopo ehi Nate sì vedi vedi di portarmi roba luccicante questo è il piano sarà fatto forza forgiamo maggior capitano Everi ok e ragazzi qua comincerà il capitolo 8 la tomba di Everi un strano posto dove seppellire il tesoro Henry Everi se ci pensi quando Everi sbarcò qui era già stata abbandonata a Grazie a tutti.